Lo scopo di questo video è quello di illustrare come le aziende e i professionisti iscritti al circuito BTE Bank possono scambiarsi beni e servizi senza esborso monetario, risparmiando e interagendo con nuovi clienti. Paolo vende mobili per ufficio e vuole promuovere le offerte della sua azienda tramite una pubblicità televisiva. Andrea vende i mobili per ufficio e deve far stampare dei cataloghi e manifesti pubblicitari. Andrea è già un membro di BTE Bank.com Anna possiede un'agenzia di viaggi e deve acquistare una scrivania. Anche Francesca, che si occupa di grafica e web, deve acquistare una scrivania. Francesca è però un membro di BTE Bank.com Quindi, Paolo vende ad Anna una scrivania ad un costo di 1000 euro. Francesca compra la scrivania ad Andrea, entrambi aderenti al circuito BTE Bank, al prezzo di 1000 euro. La scrivania, sia per Paolo che per Andrea, ha un costo di produzione di 300 euro. Anna paga la scrivania, acquistata da Paolo, in due rate. 500 euro immediatamente, 500 euro dopo 30 giorni. Andrea, per la vendita effettuata a Francesca, riceve sul suo conto 1000 BTE crediti da BTE Bank. I crediti sono subito disponibili e li può utilizzare per i propri acquisti. Paolo, per promuovere le offerte della sua azienda in TV, acquista 10 passaggi pubblicitari ad un costo di 1000 euro. Versa 500 euro subito, banconote incassate dalla vendita compiuta ad Anna, e le altre 500 euro le preleva dalla sua banca. Riduce così la sua disponibilità di liquidità. Spende 800 euro. 300 costo di produzione scrivania, più 500 euro prelevati dalla banca. Però, quando Anna completa il pagamento della scrivania, Paolo si sarà privato di 300 euro. 800 euro soldi spesi, meno 500 euro saldo scrivania, uguale 300 euro. Andrea compra da Stamperia SRL, azienda aderente alla rete BTE Bank, ad un costo di 1000 euro dei cataloghi illustrati, pagandoli subito con i 1000 BTE crediti ricevuti dopo aver venduto la scrivania a Francesca. Andrea ha concluso un ottimo affare, acquista i cataloghi illustrati, utilizzando i BTE crediti senza perdere la propria liquidità. Anzi, ha un ricavo finale dalla vendita della scrivania di 665 euro. Perché, dai 1000 euro acquisiti dalla vendita della scrivania, meno 300 euro del costo di produzione della scrivania, e meno 35 euro col rispettivo rete BTE Bank, uguale 665 euro. Francesca, grazie al servizio Newsletter BTE Bank, ha trovato ed acquisito un nuovo cliente, Web & Grafica SPA, azienda anch'essa aderente al circuito btebank.com. Le ha affidato dei lavori grafici e di web design, naturalmente con corrispettivi in BTE crediti. Così, Francesca potrà tranquillamente pareggiare il suo debito di 1000 BTE crediti nei confronti della rete per l'acquisto della scrivania effettuato nei mesi precedenti da Andrea. Questi sono alcuni esempi di come il circuito btebank.com semplifica la compravendita di merci senza perdere la propria liquidità, promuove la tua attività e ti offre maggiori possibilità di acquisire nuovi clienti. Iscriviti al circuito btebank.com, la banca italiana del baratto. Grazie a tutti.